Buongiorno a tutti Il 18 di dicembre dell'anno scorso e a Roma il 5 di giugno di quest'anno Cos'è Enjoy? Intanto Enjoy è il car sharing di Eni in partnership con Trenitalia e con Fiat Qui vedete il sito nel quale sono diverse informazioni utili, messe in modo abbastanza semplice, speriamo Il nostro è un car sharing sul modello del free floating Cioè è un car sharing in cui in un'area di copertura che poi vi farò vedere Quindi in un'area in cui voi potete prelevare la vettura e rilasciarla Queste operazioni avvengono in maniera libera Quindi a differenza di un car sharing diciamo classico, più rigido Nel quale voi dovete prendere e riconsegnare la macchina in uno stesso punto ben definito Questo è un car sharing appunto free floating Prendete la macchina ovunque la troviate, libera, e la lasciate ovunque voi vogliate Purché non in divieto di sosta E non è raro purtroppo Noi abbiamo cercato di creare proprio per quello che ho sentito diverse volte oggi Un servizio semplice, fruibile, immediato, a partire dall'iscrizione E' un'iscrizione nella nostra paperless Cioè non... potete fare tutto online, anzi dovete fare tutto online Non abbiamo desk nei quali dovete consegnare documenti o ritirarne altri Ed è un servizio quindi che non prevede l'utilizzo di una carta Fate tutto o con lo smartphone o con un telefonino normale Oppure via call center ma è certamente un po' più laborioso Quindi è un servizio che nasce per essere fruito al massimo Dalla propria efficacia per chi ha lo smartphone E quindi praticamente tutti Visto che tra l'altro da poco abbiamo anche aggiunto all'app per l'iPhone E all'app che funziona su Android Quindi Samsung per capirci Anche l'app che funziona con Windows Phone Quindi abbiamo coperto sostanzialmente quasi tutti gli utenti in possesso di smartphone Prima di procedere io volevo soffermarmi su un concetto generale Quindi che esula da Enjoy E che è anche quello che ho percepito giustamente durante le presentazioni di oggi Cioè qualsiasi tipo di servizio di questo tipo Qualsiasi tipo di car sharing Enjoy compreso Può avere successo, sta avendo successo Perché si pone come corollario, come ulteriore ingrediente Al paniere della mobilità esistente Cioè non è la soluzione Enjoy Io credo che Horacio sia d'accordo se dico che non è la soluzione Car2Go Sono ingredienti ulteriori, sono strumenti in più Che l'utente ha per poter spostarsi al meglio delle proprie esigenze Io sono iscritto anche a Car2Go E a volte se non trovo la macchina di Enjoy Quando arrivo a Milano vicino alla stazione Prendo Car2Go e vado a prenderla Enjoy più vicina Cerco di minimizzare l'utilizzo di Car2Go Io metto sempre le faccine che non è pulita Tu metti sempre le faccine che sporca Ma lo dico seriamente, lo dico perché Ne provo prima con Horacio Poi proseguo nella presentazione di Enjoy Appena dopo la partenza di Enjoy a Milano È stata il 18 di dicembre Car2Go era già da diversi mesi a Milano Parlando con un collega di Car2Go In uno degli incontri tecnici presso il comune di Milano Lui mi diceva che Car2Go ha avuto un aumento di iscrizioni Proprio quando noi siamo entrati a Milano E questa secondo me è la dimostrazione Che il servizio funziona quanto più l'utente trova le macchine vicino Il driver della vicinanza della macchina È il principale, almeno dai nostri focus group Adesso non so se poi lo confermerà anche Horacio È uno dei principali driver di successo o meno Del servizio di car sharing Se esco di casa e so che c'è una macchina bene o male vicino Sia Car2Go sia Enjoy Il car sharing comincia a suonarmi bene Se esco di casa e non trovo macchine È un fallimento In Germania e poi vado avanti con Enjoy Non so se Daniele forse faceva riferimento a una città Credo che sia Berlino o una delle città In cui gli utenti hanno venduto le proprie macchine Anche la prima macchina Io ho vinto la seconda già La prima non posso venderla perché è aziendale Ma ci stavo pensando Di metterla nel circuito del peer to peer Per esempio in Germania Nei paesi un po' più evoluti dal punto di vista trasporti Tutti hanno in tasca tutte le tessere Tutti sono iscritti a tutti i car sharing Questo per dire Per sottolineare il concetto Ci tenevo anche se esula da Enjoy E si inquadra in un argomento un po' più generale Questa è l'area di copertura del servizio Enjoy La potete trovare sul sito Non si vede molto E' l'area dalla quale potete prelevare E nella quale dovete rilasciare la vettura Terminare un noleggio Al di fuori di quest'area Il sistema non vi permette di terminare il noleggio La potete tenere in carico voi La vettura che avete prelevato Pagando una tariffa che poi vedremo Che è se la macchina rimane in sosta Inferiore alla tariffa in movimento Quindi al di fuori di quest'area azzurra Voi la macchina potete andare anche A parte l'estero potete girare tutta Italia Ma finché non rientrate qua dentro Voi l'avete sempre in carico la vettura E pagate le tariffe Che appunto poi andremo a vedere Qui c'è qualche Fatto la prova in tempo reale Fatto la prova in tempo reale Ha visto? Dice che c'è una macchina disponibile No via Ok Sulla copertura Ci stiamo lavorando Cioè sulla cercare di Massimizzare Di ottimizzare la distribuzione delle vetture Ovviamente ci stiamo lavorando Però credo che già sia una Tra noi e Cartugo Con una flotta in totale Mi pare di 1200-1300 vetture su Roma Da questa settimana noi siamo completi Perfetto Quindi voglio dire L'utente può scegliere E a mio avviso esce di casa E ha una buona probabilità di trovare macchine Tra l'altro in un'area di copertura Che è 90 km quadrati circa Questa Ed è quindi Abbastanza inferiore a quella di Milano Giusto per vostra informazione Nonostante Roma sia molto Più grande Quindi la frequenza La possibilità di trovare le vetture è superiore Qui c'è qualche elemento Diciamo Indicativo del servizio Abbiamo voluto Prima dei costi Che credo siano uno degli elementi di interesse Evidenziare anche Caratteristiche che ci stanno un po' a cuore Quelle di sicurezza per esempio Quindi parliamo di Airbag frontali e laterali Per quanto riguarda le Fiat 500 Che poi vi farò vedere Hanno 4 o 5 posti In realtà qua a Roma solo 4 posti Perché qua a Roma abbiamo solo la Fiat 500 normale A Milano c'è anche la 500L Un bagagliaio abbastanza capiente per la 500 normale Qui abbiamo cercato di mettere qualche optional Come i cerchi in lega per esempio Che danno un po' più di Diciamo È un'immagine un po' più accattivante Lato maschi Perché lato femmine Abbiamo visto che l'interesse è praticamente nullo Per il cerchio in lega Che la femmina Mia moglie compresa Fa fatica a capire cos'è il cerchio in lega E qualche optional appunto Servosterzo eccetera I pneumatici all season Che soprattutto nelle città più fredde di Roma Abbiamo riscontrato una certa utilità Qui c'è la presa USB Che è tra gli optional Per ricaricare il cellulare Ascoltare la propria musica Con una chiavetta se l'avete Il nostro cambio manuale E abbiamo un presidio H24 della flotta Quindi chi usufruisce del servizio Sa che in giro per Roma In questo caso Ci sono operatori in turno continuo Un servizio di call center Sempre attivo Per qualsiasi tipo di esigenza E di emergenza Questa è una tabellina Che sintetizza la possibilità Che avete con i vari canali Di iscrivervi Localizzare la vettura Prenotare E aprire Quindi utilizzare Con l'app fate tutto Quindi con l'app Vi potete iscrivere al servizio L'iscrizione è completamente online Ripeto La verifica dei vostri dati patente Viene fatta online Da un servizio della motorizzazione civile Vedo che scuote la testa Purtroppo Devo confermare E Chiaramente il servizio Qui se possiamo magari Spendere 30 secondi Il servizio è Enjoy E quindi Enjoy risponde Di servizi Del servizio E del disservizio Abbiamo avuto E ne parlavo prima con Horacio Alcuni disservizi Con il controllo online Della motorizzazione civile Li stiamo Diciamo così Li stiamo Li stiamo cercando Di annullare Ce n'è ancora qualcuno E sono legati sia Al database Che la motorizzazione ha Di ciascuno di noi Delle nostre patenti Che spesso è incompleto Se non errato Sia a discorso di architettura Server Che a volte sono Per esempio Nella prima e nella seconda Giornata di utilizzo A Milano 18-19 dicembre È caduto il servizio Di motorizzazione Perché le iscrizioni Sono statalmente tante Per cui non erano pronti Comunque confermo Purtroppo Ci stiamo Ancora lavorando Dopo diversi mesi Quindi con l'app si fa tutto Ci si iscrive Si localizza la vettura Con una mappa Che vi compare Proprio una volta Che la installate L'app potete prenotare Per 30 minuti È vostra gratuitamente L'app vi dà la possibilità Di raggiungere la vettura Con una mappa Della città Della zona in cui siete Ovviamente E avvicinandovi alla macchina Con l'app C'è un tasto sull'app Che vi permette di aprirla La macchina prenotata Una volta siete in prossimità Della vettura La potete aprire Se non siete in prossimità Della vettura Il sistema GPS Lo vede E quindi Ve la fa aprire Solo se inserite la targa Della macchina In modo che Voglio dire Il sistema deve garantire Che voi Siate in effetti Vicino alla macchina Se il GPS Non è immediato E vi vede lontani Anche se voi siete davanti Vi chiederà di inserire La targa Questo è il motivo Per cui a volte Nonostante siete davanti Alla macchina Vi chiede Il dato Anzi del numero Identificativo Della vettura Per evitare che io da qua Apro una macchina Che sta a mezz'ora Di distanza Dal sito potete sempre fare tutto Allo stesso modo Anche se abbiamo riscontrato Che l'utilizzo Al 90% È da app Quindi dall'application Sul vostro smartphone Quasi tutti gli utenti Si iscrivono Si iscrivono e utilizzano la vettura Il sito è poco utilizzato Vi posso consigliare il sito Per la sezione delle fac Delle domande Che abbiamo cercato Di fare il più Complete possibile Secondo me Sono molto chiare Le risposte Per consultare Se vi interessano Le risposte Per chi avesse Un cellulare senza app Quindi un cellulare Non smartphone Potete aprire la vettura Solo aprire la vettura Col cellulare Perché tutte le altre operazioni Le dovete fare Tramite call center Aprire perché ricevete All'atto della prenotazione Un messaggio Un sms Qualsiasi sia il vostro telefono Anche smartphone E nel caso in cui abbiate Un telefono o uno smartphone A quell sms Dovete rispondere Col codice presente Sul vetro della macchina Detto così Sembra un delirio È facilissimo È un qualcosa di immediato Nella iscrizione E nell'utilizzo Con il servizio clienti Potete chiedere La localizzazione E la prenotazione Della macchina Non potete iscrivervi Dal servizio clienti Ovviamente E non potete aprire la vettura Ultima slide Le tariffe Allora Noi abbiamo Tariffe differenziate Sosta movimento Nel senso che Prendete la macchina Avete una tariffa Al minuto di 0,25 Se vi fermate Anche se C'è un tasto Sul navigatore Che vi Chiede Se volete lasciare La vettura in sosta Oppure se volete Terminare il noleggio Nel momento in cui Voi vi dimentichiate Di cliccare In automatico Il sistema Vi posiziona su Sosta Cioè non è che Continuate a pagare 25 Nel senso Voi vi fermate Andate a fare la spesa Il sistema Dopo un minuto Mi pare Dopo 60 secondi Si posiziona su sosta E la tariffa Diventa 10 centesimi Al minuto La tariffa Il tetto giornaliero È 60 euro Il tetto orario 15 L'iscrizione è gratuita Quindi potete iscrivervi Anche adesso Chi non fosse iscritto E immediatamente A parte problemi Che spero non ci siano Vi trovate iscritti Quindi immediatamente Potete uscire da qua E provare una vettura Se la trovate in zona E tutte le tariffe Sono inclusive Di assicurazione Sia conducente Che passeggeri Il carburante Fino a 50 km Quindi potete Prendere una macchina E pagare queste tariffe Al minuto O i forfei orari Fino al 49esimo Virgola 9 Virgola 9 Sono tutte così A Roma E sono 600 Sono 600 Fia 500 Fatto un po' di Infatti adesso era E di backup Non c'è Non c'è nulla di interessante Quindi Io avrei finito Vi ringrazio Grazie